risposta lei si accomoda vedrà che si ci sta si stringano si stringano per me c'è il posto ancora è quasi il signor frangata si accomodano signor oh all together e allora tutto il preto e allora io tiro all'angolo mi strinzi ancora un po' le risa e poi guardandomi le gambe a calcio io sospiro guardandola tanto la gamba afora come sospira il cesare che coscia la signora e allora 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 dissi signor scusate lei è di napoli no mi sud di milano sui bagni cacciatissimo no no mi parto domani vorrei vedere frisio non visto mai finora se vuoi io posso oh grazie e salmuccaia signor e allora e allora e allora a tempo però rifacciamo 1 2 3 e allora e allora e allora buon tu nonna ma carino tra me voi accendoci guardavano dissi a signor scendè e ma via in un taxi a 10 euro all'ora sia nessuno ma attimo alla frizio e allora e allora io rindo che tax ti ines Rolling rivetti che non arrivi a poter degli ingegni euro e allora io rindo alle lauree 10 euro all'ora 10 e raggiヤno andiamo prima frizio mangiamo di buona ora io sto all'hotel meva zaino subito lei mi accompagna e allora e allora feci subito necessità di tu e a frisici magnaio 300 euro in più ma già tornando immaginato ma stavo con l'occhio a fuori quando l'hotello è subito scennetta la signora e allora e allora qua viene il graziosissimo a tutti presentato mi presento il mio marino ma via via da propria vanno qua fuori e fuori e chiedendo me in da camera e se spuglia la signora e allora e allora proprio mentre ma stava abbracciare vicino alla porta toccata e allora e allora ci guardiamo curioso tutti i tre lei prese il conto e pagalo 2.083 euro con una droga di spirito di simone non è ora e il cameriere è pratico pardon signor signora e allora e allora lei mi fa sei stupido ma stupido madame scendere le tette tacche si è riuscite per mangiare le tette di camera e che sa che buona ora cazzo per un banco di Napoli grandissima signora e allora e allora senza aggiungere manca noi e noi pigliaio capilla e subito ma non esce un'età, trovai ancora un pacco, c'ho per pensione Flora, e gli è da trovare Melia, che mi aspettava ancora. Questo è l'ultimo, ho te prego. Dio come, un, due, tre? E allora? E allora vi la prova di una grande verità, che a via vecchia Panova, non sa da mai raggiare. Bravo!